Questa attività è stata condotta magistralmente dalla stazione Carabinieri di San Gemini alla sezione operativa del nucleo operativo del comando provinciale. I reati predatori sapete che sono una piaga che è quella che interessa di più i cittadini. L'arma dei Carabinieri da sempre si spende sia in termini di prevenzione che in termini di repressione. Questa volta l'attività ci ha portato alla scoperta di 21 furti che sono stati perpetrati in vari territori ma diciamo che ha un numero abbastanza elevato nel territorio di Terni e di San Gemini. La banda era composta da un misto tra cittadini albanesi e cittadini rumeni e operavano provenienti dalla capitale e si muovevano abbastanza con un atteggiamento abbastanza professionale e quindi è stata una indagine abbastanza complicata ma che alla fine ci ha dato ottimi risultati. Come avete visto una persona arrestata, una persona denunciata e due persone in via di identificazione che al più presto cerchiamo di assicurare la giustizia. Purtroppo la rifurtiva come sapete è sempre composta da soldi e gioielli quindi facilmente spendibili senza grandi difficoltà da parte dei malviventi. I ricettatori in questo caso operano abbastanza tranquillamente. L'appello che facciamo ai cittadini come Arma dei Carabinieri di Terni è sempre quello di denunciare comunque ogni furto che avviene per darci modo di avere contezza dell'entità del reato e permetterci poi di avviare delle indagini in maniera un pochino più tranquilla e più approfondita. L'altro appello che facciamo ai cittadini è di non demordere nella prevenzione, nella difesa passiva e nelle segnalazioni qualificate alle forze dell'ordine. Comunicare sempre, segnalare sempre qualsiasi attività sospetta notata nel territorio, nelle loro vie, nelle loro strade senza avere paura di disturbare perché noi non mettiamo certo disturbati a questo tipo di richieste anzi ci fa piacere e ci serve che i cittadini segnalino tutto quello che vogliono segnalare.